Per fare il sogno del terzo scudetto, prima di me lo dieci, mi sono lo magico dieci, è l'unico vero magico dieci. Sognatore, bisogna sognare, io all'inizio di ogni campionato penso allo scudetto, ho fatto tante, ora mi sfuggi, pensi, pensi, tante di quelle pubblicità. Io mi riorno, tutto potrebbe succedere in questa Fiorentina, io amo i giocatori che fanno parte della Fiorentina. Uuuuuhhhh, zaa zaa del piano, zaa zaa, uuuuuhhhh, arrivederci.